bravi cerchiamo di andare potremmo entrare anche qua se ce la fate adesso si riporta via però è la mia canoa che vi porta via così non ce la farete mai ragazzi c'è questa canoa piena che se ne sta andando in mezzo giratevi bravi bravi dai siete già in misura tirala su simo tu controlla e tu mette la tiri sulla giri bravo girala girala bravo simo vai mate girala girala che si svuota bravo mate grande vai 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 tirala su che la giri tirala su tutta come abbiamo fatto nell'acqua piatta vai scorrere bravo vai tirala su che si riempie d'acqua se no ok adesso lo puoi girare giri butti in acqua e te la tieni in fianco io ho tenuto la mia pala tienila tienila di non perderla guarda dove sono io che mi schiacciate tiratela vicino in mezzo in mezzo così usi due mani bravo ok ci sono non schiacciarla tutta di lì se no cazzo mi aspetta che qua adesso vai in rotazione dai che vai in rotazione pagaia bravo 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 vai bravo simo pensa a controllare vai tranquillo tranquillo non succede niente ci cerchiamo il posto più tranquillo per farlo vai indietro simo vai indietro allontanati dall'arriva pagaiate tutti e due lì indietro adesso in avanti bravi dai dai ok contenerla tutta filica ok prendo dentro col salvagente bravi ragazzi bravi calma 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 cal Grazie.